Parla tifoso juventino. Benvenuti alla Juventus oggi, prima del telegiornale come sempre lasciate il vostro mi piace. Iscriviti al canale. Grazie. La dirigenza della Juventus sta guardando al mercato dei trasferimenti alla ricerca di una soluzione a basso costo per il lato sinistro, la Juve cercherà di allestire una rosa di qualità ma a basso costo. E secondo fonti affidabili, la Juventus sta valutando la possibilità ad ingaggiare Tommaso Augello, il terzino sinistro della Sampdoria. I bianconeri stanno pensando a nuovi nomi per la fascia sinistra e in questa nuova lista figura il nome di Tommaso Augello. Nonostante la sconfitta della Sampdoria contro la Juve, Tommaso Augello ha fatto una buona partita, arrivando addirittura a segnare un gol. La Juventus non avrà molta concorrenza nella disputa per il terzino sinistro e potrebbe acquistarlo a un prezzo basso, visto il possibile retrocesso della Sampdoria in Serie B. Tommaso Augello ha 28 anni, è molto flessibile e può giocare come difensore o terzino in una difesa a tre, tipica dell'idea di gioco di Allegri. E voi, tifosi juventini, cosa ne pensate delle prestazioni di Tommaso Augello nella partita contro la Juventus? Pensate che sarebbe un ottimo acquisto per la Juventus? Lasciate la vostra opinione nei commenti qui sotto. Per oggi è tutto, ragazzi. Restate sintonizzati sul nostro canale per ulteriori novità sul mondo della Juventus. Alla prossima!